Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 5 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Obiettivi grandiosi, quasi tutti centrati. Sarà effetto della luna in toro, segno di terra amico del vostro, che nelle prime ore della giornata vi sveglia con un pensiero, la mente chiara e le idee ben definite in testa, alla faccia di Nettuno in quadratura che vorrebbe scompigliare le carte in tavola, istillandovi mille e un dubbio. Invece no, staccano visti a oltranza e la mente super organizzata, anche stavolta lo batterete ignorando i suoi tranelli, lo avete capito che vi lusinga, con false promesse di complicità. A regalarvi grinta e resistenza Plutone in sesta casa, amico del vostro astro guida Mercurio, già abbracciato a Giove allo Zenit, in attesa che anche la bianca signora a metà mattina cambi segno. Da parti vostra idee chiare è un percorso ben tracciato, che infonde fiducia i vertici, descrivendovi come collaboratori ideali. La coppia è pervasa da una forza straordinaria che si manifesta in vari modi, il vostro partner lotta per avervi ed è pronto ad ogni sacrificio pur di non perdervi. Tenacia e passione nei sentimenti, capacità di sviluppare il rapporto di coppia. Nuova vitalità per i single che potrebbero lasciare il loro stato ben presto animati da una forza di volontà straordinaria. Una persona che è interessato a voi potrebbe oggi mostrarsi distaccato e freddo, fate mente locale e a ben guardare scoprirete che avete un pizzico di colpa anche voi. Basta comunque fare il primo passo. Quante strade nuove da percorrere oggi. Tuttavia dovete essere concentrati e non distratti per scovarle e riconoscerle. Imboccate la strada che ritenete più giusta per voi e non lasciatevi prendere dalla fretta. Poche speranze per chi oggi attende una notizia di una certa importanza, tutto è rinviato a domani o alle settimana successiva. Favoriti i rapporti con gli amici. Qualcuno ti ammirerà in silenzio. Dedicati di più alla vita privata e domestica. Non fumare troppo. E soprattutto non mangiare troppo. Tempo buono per prestiti e mutui anche se dovrete fare molta attenzione a Marte che inevitabilmente tenterà di mettervi fretta. Buone possibili di spuntare tassi convenienti. Ottime opportunità anche di investimenti. Non ci sono molte novità oggi sul fronte dell'amore. La routine porta con sé un po' di insofferenza e vi sentirete a disagio soprattutto nella tarda serata quando tirerete le somme della vostra giornata. In amore, l'intesa con la partner si rivelerà buona, fai però attenzione ad evitare la monotonia. Venere oggi non vi favorisce affatto, molta freddezza con il vostro partner. Per i sing la persona che vi interessa sembrerà lontanissima. Organizzatevi al meglio in modo da poter fare a meno di persone fastidiose che vi circondano e sempre pronte a criticarvi, in realtà a loro interessa solo mettervi il bastone tra le ruote. Progetto astrale dei transiti per voi decisamente benefico voluto da diversi pianeti che sono disposti in angolo superarmonico per il vostro segno. Urano, in particolare occupa un segno a voi molto congeniale, il toro e vi aiuta nel quotidiano con gli apporti di una razionalità di primordine, di cui vi servite in maniera disinvolta, riuscendo a intendere molto prima degli altri quello che sta accadendo attorno a voi. Partite sicuri di voi stessi, appoggiati dalla bianca signora in toro, segno di terra intrigono al vostro, il lavoro non vi preoccupa e con Plutone in sesta casa sapete di avere la situazione in mano. Ma i problemi ci sono, in agguato dietro l'angolo, lievi fortunatamente, grazie alla natura degli astri in gioco, il vostro astro guida Mercurio abbracciato al grande Giove, sempre benefico anche allo Zenit in quadratura. Probabilmente le direttive del capo non vi andranno subito a genio, oppure assisterete a un bisticcio in famiglia tra i membri più giovani e più maturi, ma per fortuna anche stavolta troverete il modo di far funzionare le cose, un cervellone come il vostro non si arrende mai davanti a nulla. Amore ed Eros. L'amore è un sogno per ora irrealizzato. Se non c'è ogni tanto ci buttate un pensiero, ma poi tornate ai vostri interessi e ai vostri affetti, quello permicio o fido per esempio che continuano a conservare il primo posto nel vostro cuore. Seguono a ruota l'amore per la campagna e la natura, le piante, i fiori, quindi tutti gli ideali in cui credete e per i quali vi siete esposti negli anni magari anche sul fronte politico sindacale. Da single non chiedete di più, almeno razionalmente, ma l'inconscio che si manifesta nottetempo nei sogni la racconta diversamente, magari ricordate un amore perduto oppure prefigurate qualcuno che ancora non esiste ma sperate di incontrare durante qualche viaggio, meglio un trekking, almeno avrete certamente gli stessi gusti. Espansivi e solari, brillate del vostro fascino più autentico, riuscendo a mietere simpatie e successi mondani e familiari a destra e a manca. Urano si trova adesso nel segno amico del toro e innalza il livello del vostro buon umore, aggiungendovi anche la capacità di intrattenere, con tipico brio e bel senso dell'umorismo, chi avete attorno. La persona giusta per voi si nasconde più vicino di quanto voi immaginate, sappiate soltanto attivare la vostra attitudine alla percezione attenta del circostante e la capacità di captare i segnali che vi giungono dalle persone che avete conosciuto di recente. Lavoro e denaro. Di concludere affari in mattinata non sognatevelo nemmeno, le stelle non sono propizie, anzi, potrebbero farvi confondere, causandovi piccole perdite o danneggiando la vostra immagine, un rischio che non siete propensi a correre. Impegno per l'ambiente e la natura, non solo oggi che se ne celebra la giornata mondiale, il vostro amore, la vostra dedizione sono fatti quotidiani, è a lei, alla madre terra che dobbiamo la vita, perciò è giusto ringraziarla e tenersela cara. Benessere. La salute è un musta a cui vi uniformate, l'unica legge in cui credere veramente perché dettata dalla natura, la vostra vera maestra, l'unica sovrana alla quale riconoscete autorità. Peccato che l'uomo dimenticando questo imprescindibile legame, penalizzando, importando o addirittura modificando geneticamente varie specie di piante e animali, col risultato di produrre forti squilibri. Per lei, se lavorate lontane da casa anche stamani fate la solita telefonata alla famiglia e ai parenti stretti. Preoccupati per il benessere e la salute dei nonnetti, tranquilli, stanno benone e poi la vostra voce per loro è vitamina. Per lui, voglia di trasferimento, alcuni dubbi e una chiamata a casa, tanto per dare la notizia bomba e poi già stasera o domattina dovete dare una risposta. Dispiace molto scontentate i vostri figli che dovranno lasciare le amicizie e i compagni di scuola, ma un'occasione come questa è difficile che capiti ancora. E allora accettate. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.